buongiorno ragazzi bene ieri sera poi ci siamo fermati nelle campagne prima di Gallipoli abbiamo pernottato questa mattina siamo svegliati presto e oggi non è dei migliori e quindi dovremmo valutare anche questa situazione perché credo che verrà a piovere acqua tutto il giorno oggi e domani adesso andremo al centro faremo un giro e bene ragazzi quindi ci vediamo a breve nel centro storico di Gallipoli ciao ragazzi a dopo ciao 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 e valcia la pena. Credo che quando uno fa una cosa con entusiasmo, con la testa, con il cuore, alla fine è sempre ripagato. Abbiamo visto i posti meravigliosi, l'Italia è un paese fantastico, non ti delude mai. Nel viaggio ci sono altre cose negative, può piovere e quando piove è più dura, ma noi andiamo avanti uguale, non muoviamo fino alla fine. Siamo riportati da un quarto d'oro dall'Euca in Giava, stiamo prendendo tanta acqua. Riccardo perché oggi andavamo a Otranto passando per la costa e qui la costa è spettacolare. Gopro arresta video. Gopro arresta video. Gopro arresta video. Gopro arresta video. Gopro ti spegni non ho paura Grazie a tutti 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 Grazie a tutti